Buongiorno a tutti, nuovo video, nuovo appuntamento con Identikit, rubrica in cui si parla di giocatori che gravitano verso il mercato italiano, in questo caso ancora una volta verso il Napoli cercheremo di renderla una rubrica un po' più scoppiettante che potrà occuparsi di tutti i giocatori che gravitano in ottica serie A. Quest'oggi torniamo a parlare in una nuova location come potete vedere essendo fuori casa o sto facendo questo video in questo momento in macchina andiamo a parlare di Kostas Tsimikas, il nuovo nome che gravita in ottica Napoli. Kostas Tsimikas è un terzino sinistro dell'Olimpiakos, il Napoli si è interessato molto a lui e lo vede come possibile successore di Goulam su quella fascia. Un giocatore abbastanza rapido di quasi 180 cm che è molto propenso al cross, molto propenso all'assist, già 5 in questo momento i passaggi vincenti in 19 partite complessive tra campionato greco e Champions League e che ne fanno quindi un terzino di spinta, un terzino prettamente offensivo che non disdegna comunque ovviamente la fase difensiva grazie alla sua ottima velocità. Un giocatore che è da due anni in pianta stabile nell'orbita della nazionale greca che quindi conosce bene Kostas Manolas, quindi sicuramente il Napoli avrà chiesto informazioni al suo difensore centrale per poter capire se Tsimikas fosse il giocatore ideale per poter sostituire Goulam. Un giocatore che comunque è abituato a doversi trasferire dal suo paese nativo. Per quale motivo? Perché nella sua carriera nonostante abbia soltanto 24 anni da compiere quest'anno, è un classe 96, è già espatriato due volte dalla Grecia. La prima volta all'Eisberg in Danimarca dove si è imposto come uno dei migliori terzioni del campionato a solo i 21-22 anni. La seconda al Willem 2, una squadra olandese che gioca in Eredivise e in cui ha segnato tre reti di cui uno bellissimo che vi invito a vedere in rovesciata cercando poi una percussione centrale e poi riuscendo a prendere la palla in maniera un po' sbilenca ma è un gol veramente fantastico. Uno dei migliori della stagione 2017-2018 di Eredivisa. È un giocatore come abbiamo detto di spinta, di piede sinistro, gli piace crossare, è un giocatore che può procurare qualche assist e che quindi potrebbe essere il nuovo Goulam. Quindi il Napoli ammette l'errore che ha fatto con Goulam perché lo reputava pronto per poter tornare ad alti livelli ma effettivamente essendo che non si vede da ottobre in mezzo al campo, Goulam effettivamente non sarà più forse quel giocatore che abbiamo ammirato fino al 2017 dove sembrava uno dei migliori terzini sinistri d'Europa. Quindi il Napoli fa un passo indietro, fa nuovamente marcia indietro rispetto al mercato estivo. Questo è da sottolineare perché il Napoli in estate aveva abbracciato la filosofia di Ancelotti che comunque da sottolineare voleva il terzino di sinistro tant'è vero che si trattò Teo Hernandez che poi è finito al Milan. Però il Napoli poi ha voluto convincersi che Goulam potesse tornare quello di una volta. Invece a questo punto si è accorto che l'Algerino è veramente indietro, non gioca ormai una partita da ottobre e c'è necessario bisogno in questo momento di un terzino sinistro. Quindi dopo i due acquisti sulla fascia centrale in mediana con lo bot che demme probabilmente potrebbe essere Simicas il terzo acquisto del Napoli. Attenzione però non è ancora tutto deciso perché l'Olimpiakos non si vuole privare del giocatore perché è difficile in questo momento a gennaio trovare comunque un sostituto ma il Napoli ci proverà. Napoli proverà per Simicas che lo vede come primo obiettivo per la sua fascia sinistra ma quel che è certo è che gli azzurri hanno in mente un innesto sicuro nel ruolo di terzino sinistro. Oltre questo non penso che il Napoli potrà virare su altri obiettivi intendo come altri acquisti oltre a quello del terzino sinistro perché voglio ricordare che in Champions League ci possono essere soltanto tre cambi nella lista Champions e dunque con l'eventuale acquisto di Simicas, Lobotka e Demme il Napoli avrebbe finito i posti da sostituire. Con questo vi saluto, vi auguro una buona domenica e ci vediamo a un prossimo video. Ciao!